Una martire della battaglia contro la mafia, un indimenticabile esempio per i giovani. Taranto ha ricordato il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, uno dei suoi figli più illustri, trucidato da Cosa Nostra a Monreale il 4 maggio del 1980, dove era al comando della locale Compagnia dell'Arma, protagonista della lotta contro il narcotraffico in collaborazione con il giudice Paolo Borsellino. Su iniziativa dell'ex sindaco Mario Guadagnolo e di Libera Taranto con il patrocinio del Comune, il presidente del Consiglio Comunale, Piero Bitetti, ha deposto una corona da loro alla memoria nel cimitero di San Brunone all'interno della cappella che ospita le spoglie del capitano Basile. Alla cerimonia hanno partecipato Titti e Vincenzo Basile, fratelli del capitano scomparso, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Gaspare Giardelli, il presidente sezione GIP del Tribunale Ionico, Pompeo Carriere. Tanta commozione e valori da tramandare affinché i giovani restino lontani dalla criminalità organizzata e dalla droga. È un momento importante, è un momento determinante di crescita, ma soprattutto è qualcosa che riscalda i nostri cuori, ma è un esempio, è come la città ricorda i suoi uomini migliori. Guida ideale per i giovani, esempio di attaccamento al dovere fino all'estremo sacrificio. Emanuele Basile sicuramente è stato per me motivo di grande ispirazione e lo è tuttora per me e per tutti i carabinieri, soprattutto della provincia di Taranto. Il nostro impegno deve essere quotidiano nell'onorare la sua memoria. Capitano Basile è stato un esempio di civiltà, un esempio di legalità. Attraverso il dolore dei familiari delle vittime innocenti di mafia deve nascere quell'impegno di lotta alla criminalità organizzata.